7 note di Gigi Marzullo che andrà in onda questa sera dopo il TG1 della notte. L'artista parlerà della sua carriera ripercorrendola attraverso la sua musica. Anzovino presenterà anche vivo il nuovo progetto discografico, uno speciale cofanetto con il live registrato all'auditorium Parco della Musica di Roma e il DVD del concerto della Memoria sulla Liga del Vaillant.